dignità. Ci sono tantissimi minori in questa situazione, stasera parliamo con la dottoressa Gloria Suavi, presidente Cismai, coordinamento italiano servizi maltrattamento all'infanzia, parliamo con il dottor Claudio Foti, psicoterapeuta del centro studi Ansel e Gretel di Torino e con Andrea Carletti, sindaco di Bibiano, paese in cui si sta lavorando tanto su questi temi concretamente e ci racconterà l'esperienza della cura, cioè di un luogo creato apposta per la terapia.